Ciao sono Magnus e ritorniamo sempre qui su Alone in the Dark. Ho visto pochi like, pensavo che la serie vi piacesse di più, vi interessasse di più. Naturalmente registro anche il secondo episodio, fatemi sapere sotto nei commenti, soprattutto per ciò che riguarda anche la scelta del personaggio. Forse avremmo dovuto scegliere l'uomo che non mi ricordo come si chiama, Emily. Vabbè andiamo avanti, vediamo di capire come si articola. Tra l'altro poi si ho capito bene non dovrebbe neanche tanto durare, tantissimo, però vediamo un pochetto come ci dice la cosa. Siamo un po' a chiaccia, perché qui alla fine si riesce a entrare. Riparazione della caldaia. Ok, quindi una valvola nella cantina dobbiamo prendere. Qua che c'è? chiave della stanza. Prendiamo. Magari sarà elenco personale dei pazienti. Dr. Elmore Lee Gray è il docente di De Settos, l'accounting e tutto... Vabbè sì. Allora, vogliamo vedere dove sta l'astro è rotta. Oh, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now it's important that you keep an eye out for any of the pieces. Ah, aspetta, che c'era sulla cucina? Vabbè, che vedremo è stata facendo, eh. C'è altro? Oh, cassaforte, ma non pensa che c'è la calda. Sì, va bene. Eh no, capito. C'era una... pensa ci sia... Vedo che ci sia anche una... combinazione, ma non ho capito, ma questo è tipo qua. E mi darò... no, ecco là. Ok, dossier dei pazienti. Interessante. Non lo vedo troppo articolato, dossier dei pazienti. Allora, abbiamo fatto tutto. Oh, ho capito. I need the key Non c'ho la chiave. Allora, vogliamo vedere,�othezman, mappa, 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 mappa forănere la cantina, provo l'orologio, prova 들어� orologio astronomico mezziata dagli appunti, trova la caldaia, ok, homero, e sale un'informazione in possesso di cienti Z defensive va che ci siamo già stati ho sentito il rumore un po strano non ci abbiamo mai quasi siamo già stati mappa si aggiornava informazioni sul mondo gioco quindi la porta chiuse e rompi i capi sono risolti se lo dici tanto stiamo nell'altro di la e che reception perfetto vogliamo vedere se adesso abbiamo recuperato la chiave giusta allora di qua perché ci dici che devo scattare perché non si apre mai la mappa scusate ok vediamo se di là che c'è qua sopra niente mi dovevo spaventare prova le chiavi ottenute non c'è bisogno di non dare l'indizio così dai ci arrivo pure io non c'è bisogno di non perché l'ho ben capito Ah, Ruth Puttala nel camino Ma che sta facendo? Vela Cioè ci sta provando con noi Ma stiamo vestiti anche una chia... Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood I can tell we would make great friends How flattering Too bad you're lucked up in this place Your insincerity is really refreshing I wish you were mad as I am Then you could stay Give it a few years and I might just be Munisi is one of my family's few privileges Oh good, I'll be looking forward to it You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange And it's hard to know what to make of anything you hear Occasionally it sounds quite exciting though Good versus evil and all that I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share It doesn't matter Thank you for the much needed break Bon voyage Cioè tutto sto bordello non ha ricavato niente 30 minuti per fargli una domanda E ti ha pure scroccato una sigaretta Io la butterei dentro al pub Tiantagione perduta da Louisiana Tiantagione perduta da Louisiana Che ce ne facciamo la Tiantagione? Allora qua c'è una porta, qua c'è una porta Io sono venuto di qua penso, vai allora Aspetta Yes Vediamo se qua Allora, qua forse secondo me Oh, fucile, fucile, prendito Prendito, prendito, prendito No, non apre Chiava della stanza numero 4 Bloccata E come chiamata? È blocchiata? Oh Non c'è niente qua Oh, Gesù C'è niente qua, eh Oh, Gesù C'è niente qua Oh, Gesù Vediamo se riusciamo a uscire La trattata No No Ok Sì, sì, sì Che bisogno? Zio, capita che se... Ma che ci sta per terra? Sembra Sembra Melma Ah, e si alza Cresce anche di altezza Ah E ma non si apre Tutto è tornato al normale Questa è bella con la luce o senza luce? Allora, siamo ritornati Che? Ma che? Che cazzo? Ok Si era bloccata Non ho capito perché Non mi faceva più scendere Allora Fammi capire una cosa Qui la tua mappa non serve Oh Vediamo un po' Non Grazie a tutti. science, but I know these roots have power. Do you know what's going on here? I have a feeling Dorsetto is cursed. There are several players with stakes in this game. Dorsetto isn't cursed or blessed. It's a battleground, and it would all be a lot better if you could get your uncle out sooner than later. That's all I'm trying to do. I wish you the best of luck, Miss Harwood. I really mean that. Now, if you'll excuse me, I need to look after my gombo. La nostra sigaretta è eterna. Allora, penso che l'abbiamo accesa un'altra. Anche se francamente vi dico la vera, non è che ho ben capito. Volessimo andare a cercare... What's that? Tubo da giardino. E questo? No, sembra che ci siano due cose, però. Aspetta, eh. Un altro pezzo? Non l'ho letto. Siccome se ci butto l'acqua, si riempie, no? Vediamo dove sta. Magari apro l'acqua. Gatto, madonna santa. Gatto magnificato. Non è che se ci apro l'acqua, lo faccio crescere, ce lo faccio salire di livello... Vediamo dove sta... Ok, sta qua. Allora, qua posso aprire? Vai. Stiamo schiassando tutto. Certo che funziona. Ti hai trovato? Tubo dell'acqua. Apri? No. Mmm, what's this? Il tubo dell'acqua. Questa invece è una scala. Ah, ma ci salgo? No. Aspetta un'attima, aspetta. Devi capire se... Tipo mi fa veramente aprire... Oh, vecchie lì. È un gatto, quello, con le luci, no? Allora, secondo me adesso, aprendo... Dovrebbe salire. Avevamo... Qua c'è qualcosa in alto, aspetta. No, ci sta a martedì rotta. Aprendo l'acqua. Ah, lo devo metterla. Ah no, ci serviva una prolunga. Perfetto, abbiamo cambiato tutto. Che cos'è? Piastra rotta. Ok. Il pezzo è una pasta decorativa più grande. Di corta scuola con effetto si dà. Vabbè, sì. C'erano parecchie parti che mancavano. Ok. Di là si sale. Un momento, vediamo di capire. Là si va. Ancora non abbiamo trovato niente, eh. Ma qua è la parte di prima, penso. Speria, biblioteca, salotto dove non si può entrare. Quindi, secondo me, forse se scendo c'è la cantina. Provevamo a scendere? Allora, di qua abbiamo fatto un po' tutto. Ok. Ok. Posizione del giocatore. Stiamo qua. Là c'è il bagno. Là il salone. Questa. Una chiave. Cassetta per medicina chiusa a chiave. Per chi devo guardare la piazza per nesta? Si ho trovato? Orologio dell'infermiera. Mazzo. Credo che sia quello che penso io. Ma non c'è niente. Oh. Questo è il cessetto, vero? C'è. Sempre lo stesso dopo, c'è. Ma che incredibile. Allora, un momento. Qua. Aspetta, non si può andare. Di giù. È blocchiato. Ma cosa non è l'orologio, no? No. Ok. Un momento, eh. Iniziamo un po'. Ok. Allora, mi sa... ...che di qui ci siamo stati. Di qua mi pare che non si può entrare. Andiamo di qua. Di cerco. Oh. Non sa che quello l'orologio... Ok. Si passa qua. E allora l'orologio è scritto. Ok, ho trovato il pezzo. Adesso. Sì. Orologio astronomico. Devo capire... Si spostano sti pezzi, scusate. Staparte mi ricorda un po' qualcosa. Che è? Chi ha fatto? Comunque, questi non si muovono. Di qua? Ok. Questa almeno è aperta. Ma non lo sapete, non ho capito se ci siamo. No. Scusa. Grande. La stanza è lo zio, veramente. Vediamoci se cremo la chiave. Non sembra molto tanto uguale, eh. Sicuramente è più carina nel disegno. Se fa al vivo facciamo veramente paura, eh. Ma non ci sta... C'è niente. Non troviamo niente qua dentro. La stanza dello zio è abbastanza vuota. Ma sta stanza pare sospiria. Penna stitografica. Penna stitografica. Chi c'è da me? Un po' un giro qua dentro. Non c'è niente. Perché ci fa a piedi tutta sta roba? Non ci sta... Quanti scaravaggio. C'è un giro che bello. E va tornare... I did it! I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now... Vabbè. Hmm, are these zodiac signs? Eh, ma non c'ho... C'ho niente qua. Forse è qua. The Astarte Ardus Colony. I'm pretty sure they had a Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain when I was a child. No. Forse è qua. Do I need to remember how to get them out again? They are locked up for good reason. I am sure she is still able to whisper the answer in the ears of the wrong people. But not for long. I will see her burn soon enough. that black goat will be sacrificed to put an end to it all. Then it will all be over. No more Dersetto and sadly no Astarte. Okay. Those good pirates of Pontchartrain. May you still sail the lake until you find the shores of Halley's. a m and then the spada dici. Then you get the camp meni il musicista e brian brian mi pare di non averlo letto è quindi brian lo copriamo poi c'è un philips non attivare da quello visto no rat che è successo che cazzo è successo allora abbiamo detto due williams 4 no 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 williams sì william singh franklin musing nora che williams ok 2 294 che quindi e 29 aspettare atto c'è servito da sempre 294 29 ma ma scusami anche un altro pezzo di piastra collega i nomi degli arti perché questo abbiamo fatto quindi ci siamo per dover andare qualche parte ci sta più niente perfetto c'è un'altra cosa dell'aspetto ma che attacca no ma che attacca no Vabbè, tutto a posto, penso, dai Piastra ruta, dai Allora, eh Sì? Siccome si devono ruotare? Allora, sposta l'indicatore Sposta l'indicatore Ah, ecco, vedi, ok Per cui Perfetto, così Non va bene così Ok E qua, qui sembra andare bene Sì, anche di qua Questo non mi garba Di qua Ok, no Così sembra a posto Mi mancano questi pezzi qua Aspetta Questo sembra un po' troppo storto però Ok Ah, ok Quindi è il più piccolo E tre Sei il più grande E l'altro E l'altro dovrebbe essere Una mano quattro Quindi è tre Quattro E sei Tre Quattro E sei Ok 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 E qua Sembrava là in fondo questa è la luce accesa non c'è niente ecco qua non c'è niente ho avuto un altro sogno non c'è niente non c'è niente vai vai e vai qua non si può andare occhio la porta non c'è niente munizioni ci fanno sempre comodo ok non c'ho mai un banco di ammanazza niente peccato guarda che non c'è nessuno di qua qua non si sale vero? non c'è niente bloccato non c'è niente ah ma quasi cosa ci facciamo che cosa, che roba è? manca qualcosa vediamo un po' se la troviamo piano piano qua non c'è niente che ho preso? chiave della banchina dici che forse è la chiave quella là è la chiave quella là che sta quella che abbiamo trovato chiusa vediamo un po' magari ci da una manovella una cosa dove sta sto stocco? dai che ce la fai? ok forse qua trovo qualcosa al massimo proiettili che mi fa capire che non stiamo sparando praticamente mai che cos'è? un tubo forse col tubo posso leva del ponte grande ho sentito brutto rumore vai 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 scendi oh gesù fatta che non vedo un chià non vedo una mazza va bene va bene vai che ce la faccio vai vai andiamo che è successo? che è successo? mi ha fatto spaventare non mica ci inseguono no no sono bravi ragazzi non ci inseguono forse guardiamo quanti scarafaggi quanti tubi c'hai? c'ho dieci tubi di qua abbiamo fatto il giro praticamente aia madonna chi atterrà i reni i reni ci siamo sfondati forse è meglio sparare meno male meno male no non c'ho più aspetta aspetta che qua c'era una cosa da lanciare vediamo se ci arriva è morto? no ok dove vado? qua palla che ci serve la palla? solo per menare? ok ok altra cosa aperta ok senza non può non capire occhio eh perché vai piano questo è un altro tubo non ho capito eh ho sbagliato sbagliato sto chiamando una mazza vediamo questa che è meglio e dove dobbiamo andare non devo rientrare penso no no e qua vabbè ci avrei messo i giorni per capirlo però che seguo la musica vai e vai però vai 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 ok 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 statuetta guarda fisso oh Gesù bambino che si è rotto si è fuso tutto il dio e tu no che cosa è qua dentro un tappeto non sarei aspettato qualcosa vabbè ho preso la statuetta vai vai non di qua occhio vediamo di qua se c'è qualcosa munizioni già al massimo non so che si abbia preso si stanno la seconda aspetta aspetta eccolo che secondo me ok e lo sapevo andiamo andiamo ma io non capisco ma che cazzo andiamo 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 senza protetti risuono sono senza protetti risuono ma sul serio ok ora ce l'ho vediamo se d'acqua andiamo andiamo ah c'è una voca dietro andiamo 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 è una cosa così tranquilla che sta succedendo? va tutto in fiamme qua ok vai vai non guardare giù dove cavo stiamo andando? ah bello chiaro mi serve qualcosa penso per buttarmi giù che guardi vai alla rambo vai francamente non ho capito dove siamo atterrati questo capitolo è lunghissimo però forse stiamo verso la via libera madonna santa mi facciamo una brutta fine una bruttissima fine tu non ti voltare madonna che cato di frame quindi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.